Musica Scendono a 2,83% i migranti nell'isola, una richiesta di pigliaro al ministro Minniti. In un incontro al ministero si è parlato anche di misure per scoraggiare gli sbarchi. Il caos dei voli cancellati da Ryanair ora coinvolge anche la Sardegna. Si è cancellata la tratta al Ghero-Pisa, decisione che creerà disagio ai tanti trasvertisti. Dura critica dei sindacati unitari del settore sanità contro il manager Moirano per la mancata presentazione del piano di dimensionamento del personale. Edizione esterale del Tg di Canale 12, buonasera e bentrovati. In apertura partiamo dai migranti, lo avete sentito dai titoli. Il presidente della regione Francesco Pigliaro lo aveva chiesto a più riprese al ministro Minniti che venissero riportati a livelli di normalità le presenze di migranti nell'isola. Oggi a margine di un incontro al ministro dell'interno, l'assessore Filippo Spanu, ha dichiarato che siamo arrivati ora al 2,83% di presenze al di sotto della soglia patuita che era del 2,96%. Nell'incontro si è parlato anche delle misure da intraprendere per scoraggiare gli sbarchi dalle coste algerine a quelle del Sulcis. Sentiamo. Sono scesi a 5.500 i migranti presenti nei centri di accoglienza negli Sprar dell'isola. Un risultato importante in tema di flussi migratori in Sardegna che ha fatto scendere la quota attuale al 2,83% rispetto al totale delle presenze nel territorio nazionale. Sono dati comunicati dall'assessore degli affari generali Filippo Spanu al termine dell'incontro a Roma al ministero dell'interno con Mario Morcone, capo di gabinetto del ministro Minniti, e con Gerarda Pantalone, capo dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione. Con la diminuzione degli sbarchi dei richiedenti asilo a protezione internazionale possiamo gestire in modo più puntuale ed equilibrato il sistema dell'accoglienza e quella dell'inclusione e mettere in campo le iniziative previste nei protocolli di intesa su accoglienza diffusa e volontariato sociale che sottoscriveremo nei prossimi giorni con prefetture Anci, ha chiarito Spanu. Durante la riunione si è inoltre discusso dei flussi di migranti in arrivo dall'Algeria su cui il governo, accogliendo le richieste della Giunta, ha avviato un confronto con le autorità del paese nordafricano. Oggi, ha spiegato ancora Spanu, i vertici del ministero dell'interno ci hanno comunicato che la maggior parte delle persone che hanno utilizzato il canale algerino sono già fuori dal territorio regionale. Chi arriva con gli sbarchi di rete resta per pochi giorni e al termine delle procedure amministrative abbandona l'isola. Durante l'incontro al ministero si è parato della possibilità dell'apertura di un centro di permanenza per il rimpatri in Sardegna, che rappresenta, è stato sottolineato, un efficace strumento di dissuasione ad affrontare il viaggio della Nordafrica alla volta delle coste del Sulcis. Ed ora la cronaca. Siamo a Sassari, incidente nel pomeriggio sulla strada che collega con Ittiri per cause ancora da accertare. Il conducente di un camion ha tamponato con violenza, un appunto che procedeva nella stessa direzione di marcia verso Ittiri. L'auto è volata nella corsia opposta, proprio mentre arrivava una Citroen 2. L'impatto è stato inevitabile. Gravi danni e mezzi. Le persone che si trovavano sulle due auto sono state soccorse e accompagnate in ospedale con le ambulanze del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi e per far defluire il traffico rimasto in tilt a causa delle auto incidentate che occupavano l'intera carreggiata. E ora parliamo di trasporti. Il caos dei voli cancellati da Ryanair con 400.000 passeggeri che verranno a terra da ottobre a marzo da oggi rileva i suoi effetti anche nell'isola. Sono state cancellate infatti le tratte Alghero-Pisa creando così non pochi disagi ai numerosi trasfertisti che nel fine settimana, grazie a quel volo, potevano rientrare in Sardegna. Sentiamo. Prima annuncia la cancellazione fino alla fine di ottobre di circa 2.100 voli causando disagi e problemi a 300.000 passeggeri. Con il secondo annuncio che a partire dal 10 novembre fino a marzo ridurrà la flotta di 25 aerei su 400 disponibili mentre dal prossimo aprile saranno comunque 10 gli aerei in meno utilizzati da Ryanair. Tradotto significa la cancellazione durante la stagione invernale di 34 rotte e 11 in Italia con inevitabili conseguenze per circa 400.000 passeggeri. E se inizialmente i disagi creati dalla compagnia irlandese sembravano non riguardare gli aeroporti sardi gli effetti della crisi che sta affrontando Ryanair atterrano anche in Sardegna. La compagnia aerea irlandese ha annunciato il taglio del doppio collegamento fra Alghero e Pisa del lunedì. I voli Alghero-Pisa e Pisa-Alghero di inizio settimana molto utili ai tanti trasfertisti che tornano nell'isola alle fine settimana è annullato dal prossimo primo novembre fino al 24 marzo 2018. Il taglio adottato alla compagnia risponde alla necessità di ridurre il programma dei voli in maniera controllata eliminando, secondo un comunicato di Ryanair, ogni rischio di ulteriori cancellazioni perché un rallentamento della crescita crea molti aerei e equipaggi di riserva nelle 86 basi. Tuttavia la riorganizzazione della compagnia irlandese, tutta a scapito dei passeggeri a cui sono stati maldestramenti offerti per sopprire disagi, viaggi in autobus o con macchina a noleggio, forse può far nascere nuove riflessioni rispetto a chi, per lo scalo algerese, aveva riposto tutto il destino dell'aeroporto e del turismo del nord-ovest dell'isola nelle mani della più importante, almeno fino a ieri, compagnia low cost. Ed ora la sanità. Ha dure critiche dalla Federazione dei Sindacati Indipendenti del settore sanità al manager Moirano per il ritardo nella presentazione del piano di dimensionamento del personale dell'azienda territoriale unica. Migliaia di lavoratori precari attendono di conoscere il proprio destino. Sentiamo. Continua l'inerzia della sanità sarda. La denuncia arriva dalla Segreteria Territoriale della Federazione dei Sindacati Indipendenti FSI USAE Mariangela Campus. Nel mirino dei sindacati, il piano di dimensionamento del personale voluto dalla Giunta regionale è gestito dal manager Moirano che aveva fissato il 30 giugno come scadenza. Entro quella data si sarebbero dovuti conoscere i numeri relativi ai fabbisogni di personale ed eventuali esuberi della nuova azienda unica. Un dato fondamentale per poter consentire finalmente sia all'ATS che alle aziende ospedaliere dopo tre anni di immobilità totale l'assunzione di personale, l'emanazione di concorsi, il colmo di vuoti dovuti a centinaia di dipendenti quiescenti. Lo sostiene la Segreteria Territoriale della FSI USAE. Nel frattempo, il governo aveva prorogato la scadenza delle graduatorie già stiratte fino al 31 dicembre 2017, ma ad oggi, prosegue la nota del sindacato, nulla è dato sapere del piano di dimensionamento e a soli tre mesi dalla scadenza di decine di graduatorie sono tantissimi gli idoni e i concorsi che, lavorando da due o tre anni presso le aziende sanitarie, rischiano di perdere tutto. Sono quindi molte decine di lavoratori precari che potrebbero invece essere assunti a tempo determinato avendone tutti i requisiti. Saranno distribuiti nel comparto Ovi Caprino 45 milioni stanziati dalla Regione. Questa mattina la Giunta ha approvato le direttive per la presentazione delle domande. Ad ogni capo andranno 13 euro. La società ha prodotto gravi danni anche in questo settore. Sandra Sanna Boccata d'ossigeno per il comparto Ovi Caprino, la Giunta regionale ha approvato le direttive per distribuire i 45 milioni stanziati per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte nella campagna 2016-2017. Si favorirà così la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole nelle zone colpite da calamità naturali. Per ogni capo presente in azienda al 30 giugno 2017 spettano 13 euro. Il grave stato di siccità ha penalizzato l'intero comparto e raggiunto livelli di straordinaria emergenza. Dall'attività di accertamento dei danni condotti dall'Agenzia Argea emerge infatti che i danni a carico dei pascoli e delle produzioni foragere delle aziende Ovi Caprine hanno intensità variabili tra il 50 e il 70% a seconda che le superfici ricadano o meno all'interno dei comprensori irrigui dei consorsi di bonifica. Possono ricevere l'aiuto le piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria. Il beneficiario deve inoltre essere proprietario e detentore degli animali. Per l'accesso agli aiuti le imprese dovranno comunicare i quantitativi di latte e prodotti conferiti negli anni 2015-2016 e 2016-2017. I pastori potranno presentare le domande negli sportelli unici territoriali dell'Agenzia Laore che sulla base delle informazioni precaricate nel supporto informativo assisteranno le imprese nella verifica delle informazioni già disponibili e nella compilazione di quelle mancanti. Sono 32 gli sportelli unici territoriali dislocati in tutta la Sardegna. L'Agenzia Argea provvederà invece all'erogazione degli aiuti. Dopo la stagione di eccezionale siccità il presidente del consorzio di bonifica della Nurra, Gavino Zirattu, lancia un appello alla regione Sardegna per garantire l'irrigazione alle aziende agricole. Il servizio di Walter Fanni. Il distretto irriguo della Nurra non può fare a meno dell'acqua e per offrire un futuro a questo territorio è necessaria una programmazione pluriennale capace di garantire la distribuzione della risorsa irrigua verso tutte le aziende agricole. E' questo l'appello lanciato dal presidente del consorzio di bonifica della Nurra, Gavino Zirattu, alla regione Sardegna durante l'incontro che si è svolto nella borgata di Campanedda. All'inizio di ogni stagione irrigua i nostri consorziati pianificano investimenti a lungo termine e sostengono spese cospicue per l'acquisto di nuovi macchinari. A fronte di questi sforzi gli enti preposti hanno il dovere di garantire una quantità di risorsa idrica che sia non solo sufficiente al completamento dei cicli produttivi futuri ma che abbia un costo sostenibile. La Nurra sta attraversando una delle stagioni più difficili dell'ultimo secolo. Nel sistema dei bacini del Temo Kugabi di Ginzu ci sono appena 14 milioni di metri cubi d'acqua Un dato preoccupante se messo in relazione con le reali esigenze del territorio. Per soddisfare il consumo idropotabile sono necessari 40 milioni di metri cubi d'acqua mentre per irrigare ne servono almeno altri 30. Questo significa che l'anno prossimo i bacini dovranno disporre di circa 70 milioni di metri cubi d'acqua. La situazione è allarmante. La precarietà nella quale siamo stati costretti a lavorare nella Nurra non può e non deve diventare una prassi ha concluso il presidente Zirattu. È necessario che la Regione Sardegna e l'assessorato regionale all'agricoltura si adoperino per sostenere gli imprenditori agricoli garantendo un futuro al mondo delle campagne. Ed ora la cultura. Angelo Misuraca l'architetto in camicia nera è il libro pubblicato dalla Edes che ricostruisce la vita di uno degli ideatori di tanti edifici della Sassari fascista. Ville, edifici pubblici, condomini, chiese, costruzioni tutte ispirate ai modelli del razionalismo italiano. Ci racconta tutto Luca Foddai. Angelo Misuraca l'architetto in camicia nera fu una figura centrale nella riconfigurazione urbanistica della città di Sassari durante il ventennio fascista. Non solo palazzi che caratterizzarono un'epoca ma anche interi quartieri progettati secondo uno stile che riprendeva i dettami del razionalismo corrente che dominava l'architettura dell'epoca. Un edificio entrò subito nell'immaginario dei sassaresi la favolosa Villa Conti in Viale Dante purtroppo abbattuta qualche decennio fa. In realtà fece tanto altro non solo palazzi destinati a residenze civili ma anche costruzioni come scuole o chiese. La vita di Angelo Misuraca nato a Roma nel 1893 arrivato a Sassari nel 1929 così ricca di riconoscimenti si chiuse con la morte in carcere. Convinto fascista dopo la caduta di Mussolini nel luglio del 43 passò mesi lontano dai riflettori per poi tornare al centro dell'attenzione stavolta nelle aule giudiziarie. Fu accusato di tramare a favore del fascismo e rinchiuso in cella a Ulistano. Morì in carcere nell'estate del 44 per una misteriosa paralisi ma tutto era ormai cambiato dalla fama alla rovina e poi l'oblio. Diventò un fantasma tanto che di lui tutti si dimenticarono tranne Mario Pintus figlio del principale collaboratore dell'architetto i cui anni sassaresi sono raccontati in un libro pubblicato dalla Edes ricco di fotografie e riproduzioni di disegni e progetti. Il volume costituisce un punto di riferimento per quanti vogliono capire e analizzare la figura di Misuraca e la storia stessa di Sassari. Lo scorso 24 settembre l'associazione Inski-Bollet e la compagnia Teatro Sassari con il patrocino del comune hanno organizzato una passeggiata dedicata alla vita di Angelo Misuraca dal violino Raudi Viale Mameli al Palazzo 900 di Via Manno e poi l'edificio scolastico di Piazza Marconi e infine Viale Coppino dove si trova la casa nella quale visse l'architetto oggi abbandonata e ridotta a un rudele. E ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva restate con noi. Torniamo in studio per la pagina sportiva il Sassari Calcio Latte Dolce in crisi di risultati ma il tecnico bianco celeste Marco Sanna elogia comunque la squadra che continua a lavorare con impegno. Icoribichesu La Sassari Calcio Latte Dolce in crisi di risultati mister Marco Sanna fa una disamina sul momento nuovo della sua squadra con la certezza di un futuro milione e grande fiducia nei suoi ragazzi. Senza alcun dubbio fino adesso abbiamo fatto fatica ad ottenere risultati positivi la domenica quello che mi conforta è che stiamo lavorando bene quindi come si dice il lavoro paga speriamo speriamo che paghi al più presto. I ragazzi si sono comportati bene la partita era preparata in quel modo lì avevamo veramente ottenuto quello che ci eravamo prefissati dispiace molto perché ci siamo si sono impegnati fino al 95esimo tutti quanti dal primo all'ultimo che ha giocato che è subentrato dispiace molto non aver ottenuto un risultato positivo ma ormai è qualche settimana che ci accade questa cosa qua ma il lavoro come abbiamo detto prima paga. Il morale dei ragazzi non è altissimo però devo dire che sono molto vogliosi di voler recuperare una situazione che si è complicata perché si è complicata con i risultati negativi la domenica ma stiamo facendo di tutto per ottenere un risultato positivo che dovrà per forza arrivare continuando a lavorare in questo modo Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione non ci sono aggiornamenti dell'ultimo ora io mi fermo qui vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv inoltre se siete in possesso di un decoder sky ci trovate al canale 5012 l'informazione torna domani mattina alle ore 7 come di consueto non dimenticate la striscia informativa delle ore 14 ora spazio le notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa ADN Cronos il telegiornale invece torna domani come sempre alle 19.45 io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci 1 0 a a a Grazie a tutti.